ciao amiche e amici dalla vostra gattaluna lo so questo rossetto è spaziale e di quelli in formula gel di sciseido sono meravigliosi morbidissimi questo è un colore molto molto neon infatti si chiama neon boots adesso ne ho ordinato un altro se non vado errato non mi ricordo che forse quello che un malva quindi che forse è un po più nelle mie corde però comunque questo è bello io lo metto ok ma detto questo veniamo al succo del nostro video su consiglio di melania costantino che su instagram è virginia wolf e ho letto ho comprato e ho letto di igor i quaderni ucraini le radici del conflitto è una graphic novel erano mille mille anni che non leggevo una graphic novel forse ne avevo comprata qualcuno ai ragazzi quando erano ragazzini e quindi poi anch'io di conseguenza me la leggevo è illustrata magistralmente da igor che è uno dei più grandi illustratori italiani edito oblomov ha una bella copertina così come fosse è morbida però semi rigida con un bellissimo tocco un po ruvido come se fossero avete presente quelle carte da disegno ecco così è molto molto bella questa è la sua grafica con parti scritte anche immagini grandi su due fogli e anche parti scritte vi faccio vedere perché sono interamente scritte stampate poi di conseguenza a pennarello come vedete quindi non c'è un carattere grafico a stampa diciamo ma è come se fosse proprio scritta tutta a pennarello e credo che questa sia proprio la sua la sua scrittura farvi vedere qualche altra parte anche i titoli dei libri scusate dei capitoli sono così come una pagina di un foglio a righe con scritto a pennarello questa magnifica scrittura come se fosse un minuscolo a stampa bellissimo ecco qua sul costa 20 euro li merita tutti poi come sempre lo dico sempre li trovate sempre a scontati i libri ecco l'escamotage che adotta il l'autore per parlarci dell'ucraina e quindi naturalmente delle radici dei conflitti del conflitto successivo cosa fa praticamente per spiegare dal di dentro la situazione ucraina e avendo lui vissuto due anni nei in alcuni paesi della ex unione sovietica quindi che gravitavano nella nella come dire nell'area di influenza dell'unione sovietica non sto dicendo che ne facevano parte ma comunque sia magari anche ne facevano parte e racconta e tramite appunto un'escamotage narrativo molto interessante cioè raccoglie quattro interviste che lui ha fatto durante la sua permanenza nei paesi ex urse attraverso quelle più suoi capitoli di approfondimento sui diversi su alcuni aspetti i kulaki le deportazioni eccetera eccetera narra il bello e il brutto della vita in un'epoca che spazia diciamo dai primi del novecento fino più avanti ai giorni nostri gli anni duemila una natura difficile in un clima implacabile che però con una volontà di sopravvivere di chi ci abita che domina veramente su tutto quello che colpisce in questo racconto che non c'è odio c'è solidarietà c'è una profonda umana un profondo umano interesse infatti dedica il libro alla prima delle donne che lui ha intervistato la che compare come prima diciamo qui nelle quattro che sono citate impariamo così a meno che voi siate già delle persone che hanno approfondito impariamo così alcuni aspetti della vita in ucraina a partire diciamo dal periodo immediatamente precedente e poi seguente alla rivoluzione d'ottobre dove il tessuto sociale dell'ucraina essendo composto in ampia parte da contadini piccoli proprietari faceva fatica ad accettare le collettivizzazioni che promuoveva l'URSS e quindi c'erano sempre aree di conflitto e persecuzioni e quant'altro e quindi perché non volevano cedere alla terra le loro coltivazioni eccetera e ci furono diverse deportazioni non solo ma anche le persecuzioni da parte degli altri paesi indussero delle carestie situazioni di carestie ma drammatiche in una natura inoltre inospitale molto difficilmente coltivabile eccetera spinse anche le persone ad episodi terrificanti di necrofagio addirittura di cannibalismo cose veramente terribili agguati che venivano organizzati per acchiappare qualcuno insomma e cibarsi di queste persone di questa persona quindi veramente una completa disgregazione di un tessuto non solo un tessuto sociale ma proprio la disgregazione dell'umana convivenza insomma ecco il crollo di qualsiasi valore ma neanche di sol direi non solo di solidarietà ma proprio valore umano ecco quello che ci rende persone umane la questione storica è raccontata molto bene attraverso questi racconti di quattro persone e lì la parte tutta appunto in grafico novel racconta la loro vita attraverso le parole delle persone e poi come dicevo ci sono degli approfondimenti su alcune argomentazioni la grafica è molto drammatica molto bella è una specie di sì molti sono molte storie direi sono decisamente in via si sono in bianco e nero fondamentalmente con colori tipo così un po ecco dei colori un po seppiati tipo questi per intenderci no questo non è proprio un completo bianco e nero ma un colore un po seppiato ci sono invece altre immagini poi tanti sono anche i disegni con un commento come vedete molto bella la draft grafica e ecco vediamo un po altri sono così per esempio più sul grigio una se completa assenza di colore quando ci sono magari visioni notturne o quant'altro e direi è bello è molto bello sicuramente molto suggestivo ecco di ogni racconto di ogni intervista scusate c'è scritto poi quando è stata registrata e nell'ultima di copertina alcuni dei protagonisti come dire nel piccolo mondo da una parte e nella realtà invece storica quindi diciamo il micro e il macro e qui dice lui stesso dice al principio l'ucraina era per me qualcosa di indistinto una nuvola appartenente al firmamento sovietico poi ho cominciato a frequentarla i nomi esotici che sentivo in casa sin dall'infanzia divennero paesaggi concreti come è stata la vita durante e dopo il comunismo da queste parti me lo domandavo sinceramente trascorsi due anni nei paesi dell'ex unione sovietica fermando le persone per strada e chiedendo a quegli sconosciuti di raccontarmi la loro storia mi rese conto in breve che la vita non era stata tenera che molti di loro erano testimoni e sopravvissuti di un genocidio che ancora oggi fatica ad essere ricordato quindi storie e drammatiche piene di ripeto come dicevo prima di umana pietà io ripeto lo consiglio è un bellissimo libro se siete appassionati poi di graphic novel super consigliato ancora di più io non sono una grande fruittrice di graphic novel ma così più che altro per abitudine io sono un po tradizionalista sui libri e però devo dire che mi fa questo libri come questo mi fanno ricredere amiche amici zoccolo duro se siete appassionati di graphic novel di storia se volete capire qualcosa di più di quello che sta succedendo nel mondo e sperando che insomma avete capito che tutto vada per il meglio che tutto si concluda in maniera equa e nel rispetto degli stati e delle persone a che dire ci si confronta almeno io quando leggo queste cose mi confronto con problemi enormi molto più grandi di me ovviamente ma il libro è consigliato quindi amiche amici spero di avervi fatto passare questa decina di minuti suscitando il vostro interesse naturalmente questo non era proprio un argomento diciamo spensierato è un problema drammatico ma spero di aver suscitato il vostro interesse per questo bellissimo libro me l'ha segnalato melania costantino perché io avevo segnalato il mio interesse per questo bravissimo illustratore che ha illustrato più di una opera di laura imai messina sapete quella ragazza italiana romana che vive in giappone da una ventina d'anni e scrive questi meravigliosi libri tra l'altro mi è arrivato proprio ora ora avevo preordinato la sua ultima opera non vedo l'ora di leggerlo e poi di raccontarvene amiche amici un bacione dalla vostra gatta rossettata e un bacione vi arriva anche dal assistente ciao a tutti che povero oggi è andato dal dentista gli ha un po' sfrucugliato qualche dente ha dovuto prendere attacchi perena va bene alla prossima e sempre 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 fate quello che vi fa stare bene alla prossima